Bill e Stan andando all'università hanno avuto un fuori programma, hanno rubato una scatoletta di tonno e li hanno accusati di omicidio. Aspettate un attimo! I due ragazzi di New York si trovano nel braccio della morte. Ora potete telefonare se volete. C'è il Ku Klux Klan, sono tutti parentati, scopano con le loro sorelle. Qualcuno lo fa. Un solo uomo può salvarli. Non è né Rambo né Terminetta. Chi è? Lo conosco. Mio cugino Vincenzo. Vincenzo ti sei laureato in legge sei anni fa, che cazzo hai fatto finora? Beh ho studiato per l'iscrizione all'A. Hai studiato tanto. Vincenzo è alla sua prima casa. Non le avevo detto di vestirsi con decoro. Allora quando lo ha detto non scherzava. Per loro è l'ultima occasione. I due giovani. I due cosa? L'orale di giovani. Ma non è meglio dire giovani. Stanno per essere fritti sulla sedia elettrica.